Era sul molo a una festa, o comunque a bere con degli amici, quando, ubriaco, è caduto in mare. L'allarme è stato lanciato intorno alle 4 del mattino di martedì 11 giugno. Da allora, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e la capitaneria di porto lo stanno cercando senza sosta. Il giovane sarebbe caduto in mare nella zona tra il molo terzo e il molo quarto del porto vecchio di Trieste. Le condizioni meteo di forte pioggia e vento non agevolano le ricerche. Il ragazzo, un ventenne di origine marocchina, si trovava negli spazi abbandonati dell'antico scalo insieme a un gruppo di connazionali. Una ragazza ha chiamato il numero di emergenza per avvisare che l'amico disperso aveva bevuto troppo alcol, gli altri giovani, invece, sono fuggiti. Lei è stata portata all'ospedale di Cattinara per accertamenti sanitari, visto che era in stato di alterazione.